instant volume lip aumenta il volume delle labbra del 25 per cento in soli 15 minuti instant volume lip hc high tech cosmetics in farmacia il nostro stile di vita frenetico ci porta spesso a non porre attenzione a quello che mangiamo e a cosa applichiamo sulla pelle imparare a fermarci a scegliere consapevolmente il cosmetico giusto è un modo per prendersi cura di se stessi con rispetto imparata leggere l'etichetta per la qualità gli ingredienti le scadenze perché mi è capitato di comprare a volte prodotti non validi pochi cioè guardo che sia ineretta quello che cerco ma non leggo l'etichetta assolutamente sì perché il prodotto cosmetico che interessa me deve avere un valore dermatologico testato valore clinico io uso make up tanti tanti anni io non bisogno leggere istruzione guarda magari di più e la confezione ecco mi affascina se la confezione bella e carina mi faccio mi faccio così conquistare la lista degli ingredienti con i nomi inci che troviamo sulle confezioni dei prodotti vengono viene costruita con una logica molto ben precisa partendo dal primo ingrediente che è quello che è maggiormente contenuto nel prodotto e scendendo man mano in ordine decrescente di peso riconoscere i componenti del cosmetico ci aiuta a scegliere il prodotto giusto a seconda delle nostre esigenze in questa lista di ingredienti ci sono nascosti i segreti della formulazione ad esempio gli ingredienti vegetali che oggi sono molto in auge e sono importanti vengono descritti in latino col nome botanico per agevolare ulteriormente il consumatore da un anno nel panorama formativo nazionale è comparsa una proposta volta a creare una nuova figura professionale l'informatore cosmetico qualificato un operatore commerciale ma con competenze scientifiche che sia in grado di godificare gli ingredienti che esistono nella formulazione che sono contenuti nella formulazione del prodotto e dare un'informazione veramente specialistica e un consiglio mirato e corretto all'utilizzo del prodotto stesso invece di spaventarci dovremmo considerare l'etichetta come una guida e poi ripassare un po di latino ed inglese non può che fare bene alla memoria cara amica buongiorno sono elena melic la sua r pronunciata era inconfondibile elena melic ha inventato la professione della giornalista di bellezza in suo ricordo un ipro le ha dedicato una mostra a milano in cui le opere vengono battute all'asta il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto all'associazione la forza e il sorriso look good feel better italia la forza e il sorriso versione italiana del programma internazionale look good feel better è un progetto gratuito patrocinato da un ipro dedicato alle donne sottoposte ai trattamenti oncologici l'iniziativa sotto la guida dei competenti consulenti di bellezza volontari si traduce in un laboratorio make up destinato ad offrire informazioni accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie lo scopo è quello di aiutare le donne provate dalle cure a non rinunciare alla propria femminilità con un sorriso in tutti questi mesi avevo proprio rinunciato a alla mia persona cioè intanto questa idea che avrei perso i capelli quando a gennaio dopo l'intervento avrei cominciato una chemio poi c'è stata questa questa proposta della dottoressa lupo di venire a questa vostra manifestazione alla forza e sorriso è stata una mattina veramente piacevole e quando sono uscita di qua avevo una carica che nemmeno io mi aspettavo veramente sono 13 le aziende associate ad un ipro che sostengono il progetto con un totale di 18 brand nel primo esempio collettivo di corporate social responsibility del settore cosmetico ad aureliana dei santis amministratore delegato di sogecos chiediamo come è nata l'idea del libro italian beauty ma soprattutto qual è il concetto di italianità nel mondo il concetto di italianità nel mondo che vorremmo in qualche modo esprimere è relativo a un settore che secondo noi è ancora molto vivace in termini economici e vorremmo all'estero che fosse riconosciuto così come la moda il food le calzature la pelletteria un'importanza e vorremmo dare una rilevanza alla nostra capacità e la nostra creatività nell'ambito appunto della bellezza è quella di creare un roccio quindi in realtà di andare in differenti aree del mondo e presentare a dei buyer la nostra capacità creativa la creatività viene raccolta e descritta con precisione nel nuovo libro di antonella grua italian beauty che sarà distribuito gratuitamente in tutto il mondo il libro appunto vuole trasmettere al pubblico tutta l'autorevolezza della nostra tradizione della nostra cultura della nostra storia in ambito appunto di di cosmesi quindi concentrando il racconto nel mondo della profumeria sono sicuramente andata alla ricerca diciamo di esponenti che avessero una storia alle spalle ma non solo una storia in termini appunto secolari ma una storia anche di ricerca di ispirazione di passione dei titolari un percorso storico lungo più di 2500 anni dove si intrecciano industrie ricette leggende e scienza flui respira brand orientato alla cura alla prevenzione e alla tutela del respiro del bambino e di tutta la famiglia ha organizzato un incontro unico respirare bene fa bene il respiro lo scopo è quello di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema tante e diversificate le attività promosse soprattutto rivolti ai farmacisti che si occupano in prima persona della prevenzione e della cura del benessere soprattutto quando il pediatra non entra in gioco perché non si tratta di patologie gravi o specifiche punto di riferimento importante la filosofia yoga che guida verso uno stato di massima concentrazione attraverso il respiro è tramite questa concentrazione che riusciamo a rilassare completamente mente e corpo i laboratori di ricerche erbario montechiaro hanno sapentemente unito la moderna scienza cosmetica e le preziose virtù della natura per realizzare questa linea innovativa e all'avanguardia all'olio di argan che si prende cura dei capelli riportandoli al loro naturale splendore l'olio di argan grazie alle sue innumerevoli proprietà è un vero e proprio elisir di bellezza la linea capelli erbario montechiaro comprende crema shampoo per capelli colorati per capelli ricci per capelli secchi e sfibrati shampoo balsamo due in uno balsamo capelli e siero ristrutturante una vera e propria cura di bellezza per i tuoi capelli erbario montechiaro la natura al servizio della bellezza benvenuti nel mondo di i lift mini dove le più alte nuove tecnologie nel mondo dell'estetica si concentrano e ci regalano un nuovo trattamento anti età i lift mini massaggia la pelle e convoglia in profondità i principi attivi di un siero appositamente studiato contribuiamo giorno dopo giorno a rendere la nostra pelle più giovane sana e bella ci bastano solo dai 6 agli 8 minuti i lift mini l'alta tecnologia a casa tua i lift mini massaggia la pelle più giovane sana e a casa tua i lift mini massaggia la pelle più giovane sana e bella